Davide Odone alla fine dei 90 minuti, stremato? Stremato, stremato, abbiamo dato il massimo, abbiamo cercato di dare il massimo, di riprendere una partita anche difficile in 10 e alla fine è arrivata la beffa all'ultimo, però siamo contenti, comunque noi ce l'abbiamo messa tutta, l'importante è questo, abbiamo giocato soprattutto di squadra nel secondo tempo, ci siamo tirati sulle maniche alla fine del primo tempo e abbiamo dato tutto nel secondo tempo e pensavamo di avercela fatta e invece alla fine è arrivata la beffa, però è un pareggio, noi abbiamo dato tutto, quindi a noi ci va bene. Direi una prestazione ottima da parte tua. Sì, in questo periodo sono in forma, mi sento in forma e sto dando il massimo soprattutto per la squadra, soprattutto anche per crescere personalmente e sono contento, dai, sono perfetto del gol soprattutto e peccato, ripeto, per la beffa all'ultimo, succede ecco, nel calcio c'è anche questo. Intanto ho visto che è un miracolo che non ti abbiamo unito l'arbitro perché sei andato sul pallone su tutte le punizioni. Eh sì, lo so, diciamo che ci metto tutto me stesso, però vabbè, l'importante è che non mi abbiamo unito e neanche Spulso che già eravamo in dieci, quindi vabbè, però grande prestazione, ripeto, da parte nostra e siamo contenti, siamo contenti perché mancava da tanto una prestazione così di squadra. Bene, dai, tre partite e avanti tutta. Eh sì, daremo il massimo per cercare di affrontare i play-off e arrivarci e daremo tutto, come abbiamo dato oggi nel secondo tempo, dobbiamo partire da lì, dobbiamo partire dal secondo tempo di oggi e cercare di giocare di squadra, giocare, dare il massimo, tutto quello che si ha e sopra anche i subentrati, tutto quello che abbiamo, diamo il massimo e cerchiamo di dare il massimo fino alla fine. Ok, grazie, ciao. A lei, arrivederci.